Sì? Che cazzo sei finito? Sono nella merda. Che cazzo siamo nella merda? Sto arrivando. Forza amico, i poliziotti mi troveranno, sbrigati! La polizia di Chicago è riuscita a evitare un'incursione notturna in una fabbrica. Uno degli intrusi è morto, mentre il complice è ancora in fuga. I posti di blocco causano rallentamenti intorno a Park Square. Lui centrale, abbiamo luce verde per la scansione CDOS. Cerchiamo il sospetto. Merda! Ah! Spero tu abbia un invito, o sei morto. Sono l'autista. Cazzo, amico, ci hai messo una vita. Hai un'auto, questo è un colabrodo. No, le mie regole e la tua auto. Questo è il patto. Va bene, forza, vieni, andiamo. E' andato tutto in merda. Eddie è morto, l'ho lasciato là. Che cazzo, la polizia è sbucata dal nulla. Che inculata. Ora segui la strada e tieni gli occhi aperti. La polizia mi cerca ancora. La tua strada ci farà ammazzare. Siediti e sta zitto. Devi seguire il piano, so quel che faccio. Così bene che il tuo amico è morto. Giù la testa. Su Badra, perlustriamo i vincoli e cerchiamo di farlo uscire. Ricevuto. Tutti i ponti vicini sono alzati, tranne i Wells. Unità in arrivo su Wells. Allora, qual'è il piano? Dimmi. Ora vedi di calmarti. L'isola è ben protetta. Passeremo per i veicoli, i garage, senza farci vedere. Se spengo il motore e anche le luci, devi far silenzio. Sarà solo un'auto parcheggiata. È chiaro? Sì, sì. Ok. Guardami, tremano le mani. Mi hai vestito con un buco in pancia. Più duro. Cazzo amico, dicevano che eri bravo. Te lo sei. Sì, sì. Ok, ci siamo. È fatta. C'è della gente che ci aspetta. Non fare cazzate ora. Cazzo. Quello è Lucky Queen. Perché vuole incontrarci? Non è qui per noi. È qui per te. Qualcuno sapeva. Giuro, non so cosa è successo. Non ci doveva essere nessuno. Insomma, è una fabbrica di computer, giusto? Mi volto e l'allarme scatta. La polizia è arrivata subito. Non ho... Stai buono. È finita ormai. Però l'ho preso. Questo importa. Sì, è così. È questo che importa. È così che va il mondo. Non c'è spazio per gli errori. Oh, lo so bene, sr. Lo so. Ma io non ho fatto... Tranquillo. Stai calmo. Non va tutto bene. Chiaro. Sei rifiuto a parlare con la mamma. Con gli amici. La ragazza. No, signora. Ero di fretta. Ah, bene. Molto bene. Riferisci al tuo capo che lo chiamerò? Nel caso mi servisse un'altra consegna. L'agipin del cazzo comandai il Chicago South Club. Quella banda di stronzi fa razzia al Chicago da prima che nascessi. Avrei fatto un favore alla città se gli avessi piantato un colpo fra gli occhi. Ma è proprio il tipo di cose che non voglio fare. Si paga sempre cara. Non deve succedere più. Ehi, com'è andata? Hai finito il lavoro? Che cazzo ti è venuto in mente di lavorare per il club? I soldi sono soldi. Devi iniziare a separare la morale dal portafogli. Ehi, calmati, ascolta. Posso presentarti il mio uomo. Ti troverà dei lavori d'autista migliori. Va bene. Non so se accetterò ma fai pure. Mai rifiutare qualche soldo in più, no? Ah, visto che l'hai chiesto. A Maurice piace molto la sua nuova casa. o una cosa per te. Devo vederti. Vedermi? Cioè, tu e io. Devo cercare uno con la maschera. Niente maschere. Segui il mio segnale. Quindi ora vuoi incontrarmi. Non voglio. Ma dobbiamo farlo. Ma dobbiamo farlo. Ma dobbiamo farlo. Ma dobbiamo farlo. Ma dobbiamo farlo.